Ben tornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare di nuovo del tema del giorno di oggi. Oggi come avete già visto durante la prima intervista parliamo di social, di ciò che di buono e di cattivo si nasconde nel mondo virtuale in cui tutti navighiamo più volte nel corso della nostra giornata. In particolare, soprattutto in questi ultimi mesi sono stati diversi casi di cronaca che hanno avuto come protagonisti i social network come TikTok e Omegol e purtroppo i ragazzini per i quali il mondo virtuale può nascondere più insidie di quante si possano immaginare. L'ultimo episodio è venuto a Palermo dove una bambina di 10 anni è morta sfissiata dopo aver preso parte a una cosiddetta challenge su TikTok e social del momento soprattutto per i più giovani. E allora come si può impedire certi gesti, prevenirli, rendere queste piattaformi virtuali più sicure? A provare a rispondere a queste domande è Silvia Lazzarin, psicoterapeuta e referente del Veneto per l'associazione Ikikomori Italia. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Allora dunque come dicevamo molti ragazzini in questi mesi hanno fatto il pieno di social complice lockdown e anche la DAD lo sappiamo e non sempre con effetti positivi perché in alcuni casi questa situazione ha portato davvero a sviluppare una sorta di paura del mondo reale tipica dei cosiddetti Ikikomori. Ecco quanto è grave questa situazione e soprattutto è una condizione che può essere recuperata? Allora diciamo che la dipendenza da internet sicuramente si è aggravata. Consideriamo che i ragazzi a casa hanno dovuto in qualche modo impiegare il tempo a disposizione e solitamente la via più facile era appunto navigare in internet e utilizzare i social quindi sicuramente la situazione si è aggravata. Questo non è detto che l'abuso da internet abbia determinato come conseguenza un isolamento e quindi un ritiro sociale tipico degli Ikikomori. Certo è che in entrambe le psicopatologie c'è comunque un isolamento e una compromissione delle relazioni e anche una perdita di contatto con la realtà. Si può superare diciamo non pensando di intervenire solo sul ragazzo bensì è necessario intervenire su tutto il contesto di relazioni quindi in primis la famiglia e la scuola quindi anche interventi educativi sul digitale quindi deve essere un intervento diciamo della collettività non solo del singolo ragazzo. Ecco venendo invece ai fatti di cronaca insomma gli episodi di suicidio in particolare perché si verificano anche tra bambini di soli dieci anni vediamo l'esempio della bimba di Palermo e cosa può spingere appunto un bambino un ragazzino a rischiare a volte a compiere fino in fondo questo gesto estremo? Allora i bambini non è che i bambini vogliono morire diciamo non è questo i bambini in qualche modo non sanno che può succedere non sempre i bambini hanno una capacità di distinguere tra la fantasia e la realtà quindi quando vedono dei coetanei soprattutto che mettono in atto dei comportamenti anche pericolosi e li emulano no ma non pensando alle conseguenze non avendo quindi la consapevolezza del rischio che incorrono e che potrebbe portare appunto anche a casi appunto di estremi come è successo alla bambina di Palermo quindi i bambini non hanno la consapevolezza e la maturità per affrontare il mondo virtuale e vanno in qualche modo accompagnati. Ecco appunto proprio parlando di questo è difficile controllare i bambini anche proprio per gli stessi genitori ecco come si può intervenire nel caso in cui ci si dovesse accorgere che il proprio figlio ha dei comportamenti strani passa troppo tempo sui social magari chattando anche con persone che non conosce? Allora diciamo che i genitori non sempre hanno per forza tutte le colpe sono loro nel senso che non è facile controllare un bambino che entra in internet e con che tipo di contenuti viene diciamo a contatto certo che i genitori possono limitare i rischi quando vedono che un figlio ha dei comportamenti strani oppure sospetta che chatti con estranei quello che io consiglio sempre quello di di porre a questi bambini delle domande del tipo non so hai sentito che dietro a certi profili si nascondono degli adulti anche se si spacciano per bambini cioè farli riflettere quindi e prevenire aiutandoli a sviluppare un pensiero critico in qualche modo un pensiero riflessivo e dopo quello che io penso sarebbe determinante e sarebbe un'educazione digitale sia per i genitori rispetto all'utilizzo delle tecnologie sia a scuola e questo permetterebbe diciamo di in qualche modo avvicinarsi a questo mondo e riuscire anche meglio a controllarlo perché ci sono delle possibilità non so il parent control o delle situazioni è una cosa che io consiglio sempre di non lasciare i bambini da soli in stanza con lo smartphone ma che ci sia comunque sempre una guida qualcuno che le supervisioni e il confronto e il dialogo ecco questo di mantenere sempre aperto il confronto il dialogo coi propri figli questo è determinante insomma per evitare il rischio che incorrano in situazioni pericolose assolutamente direi che è essenziale insomma e noi insomma terremo monitorata la situazione sperando che non si verifichino più casi di questo genere noi nel frattempo ringraziamo e salutiamo silvia lazzarin grazie per essere stata con noi questa mattina bene grazie a voi buona giornata a tutti arrivederci benissimo allora vi salutiamo anche noi vi diamo appuntamento oggi alle 12 e 30 con il nostro buongiorno verona e naturalmente una nuova intervista grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata